iniziamo appunto da Empoli-Bologna domani alle 20.45 nell'Empoli abbiamo messo Niang titolare nell'ultima giocata titolare è un po' il giocatore che può portare bonus in questa sfida contro il Bologna anche perché è rigorista la scommessa è Zurkowski sensibilmente diminuito il suo rendimento ma ragazzi era abbastanza fisiologico, non poteva segnare gol ogni giornata però è sicuramente una scommessa, sconsigliato Valuchiewicz perché comunque è un giocatore che A rischia comunque l'insufficienza, B rischia comunque il balus e in ottica Fanta non ti porta bonus quindi è un po' il difensore meno schierabile in casa Empoli nel Bologna sappiamo di Zurkowski che è out ovviamente il giocatore consigliato è Ferguson perché è un giocatore che si propone davanti è un giocatore che può regalare l'assist, può regalare la giocata quindi sicuramente da mettere la scommessa è old card giocherà al posto di Zurkowski Tiago Mota ne ha parlato in conferenza stampa dicendo che comunque è lui il sostituto con caratteristiche diverse però ricordiamo che in tre presenze ha fatto due gol non è detto che possa segnare però lo avete magari non avete grosse alternative come terzo slot ci può stare sconsigliato Kristiansen perché è vero sta migliorando un po' il suo rendimento però è ancora quello che sinceramente mi convince a meno in ottica Fanta Monza Cagliari sabato ore 15 nel Monza Colpani sì Colpani arriva da due assist nella sfida contro il Giona manca da bonus a diverse giornate io lo metterei nella sfida contro il Cagliari perché il Cagliari sapete che è una squadra che resuscita un po' i giocatori che non segnalano a diverse giornate la scommessa è Birindelli perché la scommessa è Birindelli perché lui ha sicuramente trovato continuità ha praticamente tolto il posto a Ciurria Palladino sta comunque giocando con la difesa a quattro quindi lui è più un terzino a destra che è difficile vedere un Ciurria terzino a destra ma anche quando giocava come esterno era favorito rispetto a Ciurria quindi Birindelli è la scommessa sconsigliato Izzo perché è un giocatore che prende troppi cartellini ogni volta succede sempre un marasma quindi sinceramente non è il giocatore ammirato qualche stagione fa nel Cagliari abbiamo detto Gaetano in dubbio qui viene messo il titolare è più una speranza perché non è detto che verrà rischiato anche perché c'è la pausa e poi ci sarà Cagliari-Verona quindi Gaetano lo potete mettere con copertura però il giocatore che consigliamo è la Padula si è sbloccato secondo gol in campionato pensiamo e tra l'altro è anche lui rigorista pensiamo che comunque lui possa trovare adesso una certa continuità quindi come terzo sotto ci può stare sconsigliato De Iola non abbiamo certezze di titolarità però ragazzi De Iola gli si vuole bene ci mancherebbe però a livello Fanta è assolutamente sconsigliato Udinese-Torino sabato ore 15 quindi in contemporanea con Monza Cagliari nell'Udinese il giocatore consigliato è Pereira l'abbiamo visto è ritornato ha preso in mano la squadra ha condotto l'Udinese alla vittoria in casa della Lazio quindi si va a mettere sicuramente Pereira la scommessa Luca che è ritornata al gol non segnava da fine dicembre immaginate un attimino è un po' come il discorso di La Padura sapete che il gol riesce un po' a risvegliare gli attaccanti quindi ci sta andando a schierare contro il Torino sconsigliato Christensen che giocherà sicuramente titolare vista la squalifica di Perez e sappiamo già diverse settimane che comunque è un difensore che non convince appieno nemmeno l'allenatore figuriamoci in ottica Fanta nel Torino consigliato Zapata ex di turno quattro gol nelle ultime sette partite è sicuramente il giocatore più propenso al bonus in casa Granata la scommessa Evlasic perché da troppe giornate che non segna è un giocatore che fa sclerare al fantacalcio parliamoci chiaramente è un giocatore che ha comunque i numeri ma non li mette in pratica troppo di scontino però contro l'Udinese se avete uno spazietto la scommessa Evlasic sconsigliato sa Zolova perché dovrebbe giocare visto il nuovo infortunio di Cici dovrebbe giocare lui sulla corsia a destra come braccetto di destra Salernitana Lecce sabato ore 18 nella Salernitana ragazzi Candreva perché comunque anche a Cagliari è comunque il giocatore che ha creato più occasioni lo avete sapete benissimo che è un giocatore propenso al bonus quindi magari uno spazietto volete trovarlo la scommessa e c'è una che posso dire mi ha deluso particolarmente a Cagliari mi aspettavo meglio però un giocatore che a parte un colpo di tacco magari non era in giornata lo mettiamo comunque come scommessa perché è veramente l'ultima l'ultima possibilità per la Salernitana non dovesse battere il Lecce già è a 10 punti di distanza insomma sappiamo un po' quale può essere la destinazione sconsigliato Fazio perché ragazzi inguardabile sia Fazio che Manolas inguardabili giocatori che fanno tanti errori quindi se lo avete in rosa ahimè virate su altri profili in casa Lecce Lecce che ha cambiato allenatore sappiamo un po' quello che è successo è arrivato Gotti Christovic dovrebbe vincere il ballottaggio con Piccoli e a quel punto Punta che gioca contro la Salernitana ha segnato due gol la scorsa settimana su Muradova quindi Christovic si va assolutamente a schierare Oden è la scommessa di giornata mentre Ramadani diciamo più che altro perché rischia magari qualche ammunizione quindi per quello non si va a consigliare anzi sconsigliato per questa giornata Frosinone Lazio sabato ore 20.45 il Frosinone che è assolutamente crollato a livello di rendimento a livello di risultati proviamo ancora a mettere su le 5 giornate che non segna è calato drasticamente il suo rendimento un po' come tutta la squadra come detto prima però se l'avete mettetelo perché comunque è rigorista la scuola settimana non l'ha battuto perché era già uscito visto anche un po' il marasma che è successo attorno ai calci di rigore su le dovrebbe essere diciamo lui il rigorista è sicuramente il giocatore più schierabile in casa Frosinone la scommessa è Brescianini perché è un giocatore di inserimento è un giocatore che si fa vedere sul fronte offensivo ha anche comunque capacità di palleggio quindi ci può stare a metterlo come scommessa sconsigliato Romagnoli ma anche Ocoli insomma il duo centrale del Frosinone non ci sentiamo di consigliarlo per questa giornata nella Lazio il giocatore consigliato è immobile cerchiamo di anche di spingerlo al bonus la scommessa è stata ridotta la squalifica quindi sarà a disposizione contro il Frosinone vorrà sicuramente far bene sconsigliato in casa Lazio con capelli grini perché comunque potrebbe potrebbe partire titolare in ottica Fanta non mi sento di consigliarlo Juventus Genoa in bianconeri Vlaovic ovviamente si schiera non abbiate il minimo dubbio ragazzi anche se dovesse prendere la insufficienza pazienza però è un giocatore che dovete assolutamente schierare scommessa cambiasso perché è un giocatore che sta trovando continuità di rendimento e anche a livello di ruolo è un giocatore che si propone tanto in fase offensiva e ricordiamo che l'istato difensore quindi diciamo che è una manna al fantacalcio quindi sicuramente schieratelo Locatelli ancora una volta sconsigliato non segna difficile prendere l'insufficienza magari prende qualche ammunizione virate su altri centrocampisti nel Genoa ovviamente Gudmundsson è ritornato al gol nonostante il gol sbagliato però Gudmundsson trovateli comunque uno spazietto Retegui è la scommessa perché è vero da Juventus in casa non subisce tanto il Genoa ha un rendimento diverso in trasferta rispetto al rendimento che è in casa però magari non avete grosse alternative ci sta a mettere Retegui anche perché si sta giocando la convocazione all'europeo sconsigliato dei Vinter Verona Milan Verona comunque che è una squadra assolutamente in forma otto punti nelle ultime quattro partite Susov è il giocatore più rappresentativo è il giocatore in grado di far la giocata quindi si schiera la scommessa è follow run show perché comunque è un giocatore che sta trovando anche continuità a livello di bonus sconsigliato Davidoviz rientra dalla squalifica ritornerà titolare però sappiamo insomma la storicità di Davidoviz che in ottica Fanta non diciamo che non è assolutamente una garanzia tutt'altro in casa Milan il giocatore consigliato è Giroud perché comunque è rigorista è comunque la punta centrale è il giocatore che anche qualora non dovesse partire titolare è sicuramente un giocatore in grado di portare bonus anche a gara in corso la scommessa mettiamo Renders perché è un giocatore che sta ritrovando la titolarità ha avuto un calo di rendimento ha fatto anche panchina però sta ritornando in forma ed è un giocatore sicuramente che vi può garantire sia il rendimento sia anche magari qualche assist o magari il bonus sconsigliato in casa Milan giocatore che non ci sentiamo di consigliare è Kier perché comunque è un giocatore che non dovrebbe partire titolare potrebbero rigiocare dal primo minuto Tomori e Ciao in attesa anche del recupero di Calulu però in ottica Fanta è un giocatore che sicuramente non vi dà determinate garanzie Atalanta-Fiorentina programma domenica alle ore 18 nell'Atalanta vabbè ragazzi ci mancherebbe è ovvio che va schierato sta trovando anche il bonus con continuità la scommessa Lukman da quando è detrato dalla Coppa d'Africa appena una rete però è il giocatore che può spaccare questa partita quindi se lo avete lo mettete anche se non abbiamo garanzie di titolarità lo mettete con adeguata copertura sconsigliato Gensiti che è del reparto difensivo è quello che dà meno garanzie nella squadra Viola mettiamo Belotti contro la Roma non ha fatto male gli è mancato il gol quindi magari si vorrà rifare una sfida contro l'Atalanta come terzo slot ci può stare Beltran giocherà sulla tre quarti vista anche la squalifica di Buonaventura è un giocatore che magari non ha continuità a livello di bonus ma come rendimento difficilmente prende l'insufficienza quindi ci sta andando a schierare sconsigliato Milenkovic Roma-Sassuolo domenica alle ore 18 nella Roma mettiamo Di Bala mettiamo Lorenzo Pellegrini che sono i due giocatori che comunque stanno più in forma si può mettere anche Lukaku però per ora è in dubbio perché ha un problema all'Anca è ovvio che se avete Lukaku lo mettete comunque con adeguata copertura la scommessa è il Sharawi oggi dovrebbe giocare Zaleski nella sfida di Europa League e il Sharawi dovrebbe ritornare titolare nella sfida contro il Sassuolo e ci sta andarla a schierare sconsigliata War è vero ha segnato a Firenze però ragazzi ha fatto anche tanti errori e non sappiamo se ritornerà a essere titolare sinceramente a me è un giocatore che non piace nel Sassuolo non ci sono consigliati perché il Sassuolo diciamo è una squadra al di là della vittoria dell'ultima giornata non mi dà determinate garanzie quindi possiamo mettere come scommessa Pinamonti se non avete grosse alternative perché batte i rigori anche se Svilar è un portiere che i rigori li para però magari leg numerose siete un po' in difficoltà almeno sicuramente partirà titolare sconsigliato Pedersen che dovrà sostituire la squalifica di Doig quindi si sposterà sulla sinistra non ci dà tante garanzie chiudiamo col big match Inter-Napoli domenica alle 20.45 nell'Inter fresca di eliminazione della Champions League c'ha la Noglu è da un po' che non segni lo mettiamo batte i rigori e ci aspettiamo una prestazione del suo del suo score una prestazione che vada al di sopra la sufficienza e che magari possa portare qualche assist o un bonus magari non su calcio di rigore la scomessa Pavar non ha ancora segnato in campionato ha solo un assist ci sta andarla a schierare nella sfida contro il Napoli sconsigliato Sanchez perché comunque al di là del rigore sbagliato con la Terrico Madrid è un giocatore lontano di luce da quel ligno maraviglio che avevamo ammirato ai tempi dell'Udinese quindi non ci sentiamo di andarla a consigliare nel Napoli Varaschelia sì è vero nell'ultima in Champions non ha fatto bene però nell'ultima in campionato contro il Torino voleva spaccare la porta quindi il campionato è una cosa rispetto alla Coppa Europea Varaschelia se lo avete lo andate a schierare la scommessa è di Lorenzo è vero che dalla sua parte ci sarà Di Marco però di Lorenzo ci aspettiamo che magari da capitano possa offrire una buona prestazione sconsigliato John Jesus che sarà al fianco di Rachmani ragazzi John Jesus in ottica Fanta secondo me non va praticamente mai schierato